Il nostro canale è www.mesmerism.info Il nostro canale è www.mesmerism.info Il nostro canale è www.mesmerism.info Abreu! Abreu! 37, 37, 38 e basta! Abreu! 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 Dottor, questo è il mio figlio da media! Il mio figlio da media ha fatto la domanda sul suo numero, nei suoi posti, di anche la vita! eh, non puoi dire a te eh eh, non tu, io mi chiamo c'è andata io ho fatto la domanda da sei bravo, tu e due bravo, bravo, adesso ditemi un po' la malata dov'è? si, stai beh, vado l'alto mi occupa, vado l'alto vado l'alto vado l'alto Grazie a tutti. 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 Good morning. Grazie a tutti. 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 numero uno, ti porti a voto a stare, ehi, tu posto non mi chiamai io, tu non mi chiamai c'è niente, chi va a messo il posto in una serie? oh, suona, guarda un bambino, guarda un po' non si è venuta però se mi hai messo il trovo, se mi hai messo il trovo, ti mandassi il trovo chi vuole che ti mandassi il trovo, ma come il tuo che trovo? come il trovo? c'è niente, se trovo, se trovo, c'è niente il per la facuta c'è niente la salostrata la salostrata il corso anche e ilеoporto è piccata il jaroszata sono il Ministro Ma lì vedi a tutti i miei amici, ma ti raccomando. Sto a lui parli in bagna di cuore. No, non so se io non mi rispondo. Signor Fittaco, eh, come mai da tutte queste partite e spettavano? Sì, signore, io ho preso un appuntamento con Stavetti. Ah, sì sì, è vero, è vero. Prego, comoda. Grazie. Signor Fittaco. Ma comoda. Andando. Io ho detto a te, signore, che se non è giù. Ti chiudo, se non è giù. Tu ho mandato a nonno. Se non è giù. Stai avvertito, che se non è giù. Ma non è giù. Stai avvertito, che se non è giù. Ora, ora ma, ora ma, se ne è giù. Non è giù, se ne è giù. Saperio? io ho provisto che posso mettere la maniglia comune però tu ti devi preparare il tempo scusate ma lei non sono pezzo Saverio ma non venire a busta metteremo un'unica traccia stavano fin hai capito? il trucchetto c'è ma non si vede un po' di caffè nel signor dottore? no signor vi ringrazio non vi scopo d'altro no 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 la traccia la traccia è il caffè non c'è non mi preoccupare non venire non vado a caccia e vai a fa dottor scusate non c'è la traccia la traccia è il tempo la traccia è la traccia è passala io ho paura degli animali io ho paura degli animali passala è uscito si è addormentato faccio la torre sta traccia va bene la traccia è la traccia è scusate dottore scusate signore non vi dovevate scomedare perché non è nel caso eh dottor il caffè è la pena che è bene dottore questa traccia è la torre ma la ritrova un malo non vi trovo hai ragione va bene la traccia è tupi tupi marescia fate le vostre considerazioni perché i piloni di un calcio è la traccia di un treno è in asserito diciamoci con questo assentamento effettivamente è un po' difficile ma è mogata in primi sedili ma chi c'è un po' marescia tu mi dici ma come no? io ho fatto di me tu mi sono preparati se lo faccio svolto? eh? però come te che non dà l'importo te lo faccio portare dal vice sindaco davvero sindaco ha capito? sta bene ma che dici ai sindaco o va che giù tu mi parla la mia cosa ma c'è tutta bene quando riguarda le prossime elezioni non ci siamo investi di 1550 51 dottore non vi trovo qua un in più e un in più sempre un in più ma ci facciamo tu due facciamo qua ci parliamo gli ma li ha unveil l'é lo ma l'é 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Io sono venuto per quel patto. Io sono venuto per quel patto. Io sono venuto per quel patto. Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno a tutti.